Ferrara non si distingue dalle altre città della regione per una buona dosi di allarme sociale nei confronti dei fenomeni che in questi anni hanno calamitato l'opinione pubblica con una serie di mutamenti che hanno finito per cambiare radicalmente collaudati punti di riferimento. Dalla crisi economica generale alla disoccupazione soprattutto giovanile al calo demografico che lascia senza figli e molte famiglie fino al terremoto del 2012 prima seguito poi dal terremoto economico finanziario di Carife per arrivare alla presenza degli stranieri che se oggi arriva al 10,3 per cento della popolazione attualmente più bassa in regione ha avuto però un incremento particolarmente alto negli anni dal 2000 al 2004. Il ritratto complessivo offerto dalle due indagini la prima sulla serie storica dei reati fra 2007 e 2017 la seconda sulle opinioni in materia dei cittadini ci danno il ritratto di una città preoccupata in ordine decrescente dalle difficoltà economiche lavoro per il 50 per cento crisi economiche il 40 per cento micro criminalità il 21 per cento immigrazione il 17 per cento dei cittadini dei grado urbano il 9 per cento in questo quadro di diffuso malessere che ha colpito ma anche di leopardo il territorio l'ansia legata ai fenomeni di criminalità nonostante i reati violenti e predatori siano in calo a Ferrara ancora più che nel resto del paese della regione sembra essere particolarmente forte in città a sottolineare che l'insicurezza sociale ha avuto sui ferraresi un effetto particolarmente destabilizzante i ferraresi appaiono dotati di un alto senso civico e infatti sono pronti a denunciare i reati più degli altri miliano armagnoli sono molto sensibili alla micro criminalità spaventati dall'immigrazione emessi in forte disagio dal degardo urbano tra i reati in calo si segnalano tutti i reati violenti e per i reati contro la proprietà le rapine in abitazione in banca i danneggiamenti i furti d'auto da tenere sotto controllo invece i furti in abitazione che nel triennio 2012 2015 sono stati più alti che in regione così come le rapine sulla strada che nel 2017 hanno toccato i tassi degli altri comuni capoluogo della regione e i borseggi che appaiono in crescita a Ferrara resta forte la preoccupazione sulla sicurezza che pur non essendo fondata su dati oggettivi di delituosità in crescita crea ansia e disagio in astratto anche se 7 cittadini su 10 del campione esaminato interpellati sulla sicurezza del proprio comune hanno risposto in modo mediamente più positivo che negli altri comuni capoluogo da sottolineare fra i dati allarmanti il senso di insicurezza denunciato dalle donne soprattutto e dalle persone con bassa scolarità nel passeggiare nel proprio quartiere la preoccupazione scatenata dallo spaccio di droga soprattutto se concentrato in un'area precisa sull'immigrazione si registrano due dati apparentemente contraddittori ma significativi da un lato la preoccupazione che gli immigrati portino via lavoro dall'altro il riconoscimento da parte dei ferraresi per gli stranieri dei diritti di cittadinanza grazie a tutti